bella a tutti ragazzi sono the king of the 99 benvenuti qui in questo mio nuovissimo video so che ormai sono sparito da tanto tempo ma sono stati dei tanti motivi questa seconda volta ricco sto video perché prima ho fatto diciamo abbastanza a parte perché mi sono reso conto che c'evo la sensibilità sminchiata quindi praticamente non sapevo mirare ma non era colpa mia perché sono ritardato e mi ho scordato di cambiare la sensibilità tumore quindi è uscito un video abbastanza non volevo caricare il mio video in cui io dicevo solo quello quindi oggi in questo video vi spiegherò perché sono sparito per così tanto tempo dal tubo questo è pamaggio l'ho sparito diciamo sia per colpa mia e sia comunque perché essendo al quinto anno di superiore mi dovevo diciamo impegnare a scuola almeno quel minimo per potermi diplomare infatti mi sono diplomato nel 72 che onestamente non si butta muori un attimo il tempo di raggiardare poi vi raccontano la storiella che poi non è una storiella ma la storia della mia vita di merda muori c'è più nessuno buona così e diciamo è andata così poi vabbè io comunque essendo uno che sta sempre fuori casa ormai perché comunque in quest'anno sono cambiato tantissimo essendo uno che sta sempre fuori casa a casa ci sta poco what bright alleato ho sentito male no no mi sono sentito bene si vabbè è finita la partita praticamente un attimo ragazzi che mi concede no 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 è ronti a tre dal bright a tre dal bright a tre dal bright comunque questi qua sono i maggiori motivi per la quale non ho fatto video per così tanto tempo continuerà ad essere così la situazione perché comunque non so più buttata a casa a registrare quale se buttate varie che facevo prima quindi diciamo un video ogni tanto riuscirò a farlo porca umore quindi diciamo dicevo che la situazione continuerà ad essere così ma nei prossimi giorni forse qualche altro video ve lo riuscirò a portare perché comunque la sera forse se mi metto d'impegno qualche cosa ve la recco oppure un video no sense anche perché questo video oltre a dirvi che comunque sono mancato per tanto tempo cioè alla fine è no sense è un gameplay di code tranquillo cioè tranquillo o un cazzo che tipo bestemmina madonna e tutti i santi a livelli assurdi però alla fine comunque un video c'è qualcosa da vedere in un momento di noia magari dici riguardo un video del king visto che non carica mai dici cazzo si è un coglione di merda ma quello è anche risaputo comunque muore uno muore l'altro infatti faccio il ripro lo spawn nemico perché sono nabbi come sto cazzo niente questi erano i motivi ma nei prossimi giorni volevo portare un video su un vecchio code oddio mi sa ancora di mano su un vecchio code perché comunque mi piace fare i vecchi code diciamo mi dico diciamo che comunque mi divertono però fino alla certa dopo un po' mi si rompe una minchia puri a giocarci però alla fine fare video sui vecchi code mi piace rispolverarli facci due tre partite bene insomma mi rende soddisfatto tranne questo che si campano negli angolini che c'ha qualche malattia muori fa un accento dal bright e levati dalla minchia ritardato dai che palle però e vabbè sono morto 225 avevo comunque la mano su code non la perdo eh la mano su code non la perde mai il king che poi alla fine ragazzi è Joe però non registro perché come vi ho detto mi rompe i coglioni anche c'è insomma ah ci vengo a dire per quelli che magari dicono eeeh hai contato youtube perchè lo fai per soldi ti attacchi la minchia c'è anche a carminchia intendo a quello la che è volerà uccidermi al c4 fai solo... fai video per soldi io non ho una partner da un anno cioè ce l'ho ma non mi pago un ca... due centesimi da quindi non lo faccio per soldi faccio perchè comunque è un hobby è una cosa che mi piace quindi va quella è la situazione voi andrò a fare un'altra partita eeeh basta questo video uscirà lunedì quindi stateci ma poi un altro motivo per cui non vi porto video è che comunque l'estate si fa amare cazzo ragazzi si fa amare di certo non ti sei a casa nerdare a cold quello la sera si fa quando non devi uscire tac giochi a cold, giochi a fifa giochi a rainbow, a fortnite che anche quei video che li porterò sempre se ce l'ho voglia e tempo perchè comunque è quello che mi manca a me da... abbastanza tempo ormai ah poi avevo intenzione di farvi l'altro diciamo un altro video su mv2 col cecchino su tct tipo non so se vi ricordate il video che caricai l'anno scorso si chiamava tipo oh mio dio ho fatto un quick e scoppeee e lo voglio fare anche quest'anno quindi ci sarà anche quel video non so quando perchè le lobby su mv2 sono tipo introdabili come la figurina di di Ronaldinho nell'album dei calciatori quindi mi ferretto ok posso uscire ma poi dico perchè la gente usa il 48 dredge cioè che senso ha? che senso ha? oddio madonna che tumore ma io mi chiedo perchè nel 2018 esiste gente che sto... beh dispiace mi hai finito le sordenti che peccato ma perchè tua madre non faceva i bocchini col culo? ma mi impegno un attimo anche comunque oltre a parlare voglio fare anche un risultato decente quello è alto calibro c'è è un put scontato tutta la vita che mi sciottava così ahaha ma che peccato oh muori coglion non so bene di questo gioco che mi piace perchè push agli amici la cosa più bella del mondo push agli amici che comunque oh che almeno il gameplay viene più movimentato capito c'è quella è la cosa bella PORCA NOO TIA VIA polizia che che non vabbè col vespa del 2018 col virione che schifo che schifo grazie ma quanto arriva la mamma che era ma visto gg per paolo oddio no vabbè non ci credo non ci credo che palle si spawn che palle palle mi fottono di kill moris cazzo sti studi coglione amici oh moriva tipo se io salgo qua sopra ci muoio cento cento invece no invece si vabbè 19 8 è onesto come risultato dai dove sono i nemici cristo ma se morivi veramente godevo come un po' bella fra 20 dei 10 al bacio abbiamo già finito abbiamo già finito vediamo un poco la killcam del king bellissima la mia mira proprio un amore ok il video è finito e spero che vi sia piaciuto facciate tantissimi piace iscrivetevi al canale e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao